Aprende la caffetta del impianto. Inizio troverete il cable USB, il cable elettrico, il impianto, ovviamente, il supporto del paper, le instruzioni, il cd con il pilota del impianto, il programma del impianto. Usa il bagno dal impianto. Usa le tappi, sono qui per proteggere il impianto durante il impianto. Aprende la coperta del impianto. Usa questa parte oranze e lo scuola. Usa il cartone del toner. Usa la scuola nero. È qui per proteggere il trame. Usa la scuola del cartone. Non toccare il trame, il pallone verde. Reinstallare il cartone. Aprende la coperta. Installare il supporto del paper. Aprende la coperta. In questo modo, ha due tappi. insert the electrical cable insert the usb cable connect the usb cable to the computer insert the paper A4 turn on the printer at the end of the starting process the light must be green if you have windows 10 or 11 the printer should be already installed and you can start to print check the list of the printers there should be your Pantum printer choose it and print if you don't find your printer insert the CD in the CD reader of the computer then follow the instructions select usb connection for example at the end of the process the printer will be installed in your computer or you can download the driver from the Pantum website search the Pantum website insert your printer download the driver download the driver now you can start working with your printer ok here we go we make a printer there you can Describe